C'è un giudizio, nel mezzo di questa Pasqua c'è un giudizio, ma giudicare significa anche separare, giudicare significa guardare alla realtà e fare la verità. Nella Pasqua, in questo tempo meraviglioso, fratelli carissimi, possiamo imparare a non temere il giudizio. Noi viviamo costantemente con un timore sordo e alle volte inconscio del giudizio. Viviamo dipendendo moltissimo dal giudizio degli altri, per esempio, da cosa pensano di noi. Ci giudichiamo noi stessi, giudichiamo noi stessi spesso con grandissima severità, salvo poi quando qualcuno ci dica qualcosa, ci faccia un'osservazione, un rimprovero, ci faccia vedere un errore, rimanere lì adirati e non riuscendo a sopportare il peso del giudizio dell'altro. Da noi stessi quanto giudizio vogliamo, ma dagli altri molto difficile, no? Giudichiamo, ci giudichiamo, viviamo stretti nel giudizio, schiavi del giudizio, ma il giudizio è senza misericordia. Il nostro giudizio è sempre fallace, lo dice la scrittura, è sempre errato, perché è un giudizio che parte dalla superbia. Cioè, un superio, un superbo, un superio, si intronizza in una presunta superiorità rispetto agli altri e si sente in diritto, spesso in dovere, di giudicare. Un prete, un vescovo, un padre, una madre, dei figli, un fratello verso un fratello. È chiaro che se tu giudichi gli altri, giudicherai te stesso, con la stessa misura con la quale giudichi, ti giudichi. E siamo schizofrenici, perché da una parte tendiamo a giustificarci, ma dall'altra siamo preda di crisi esistenziali profondissime, quando non manteniamo lo standard, o non raggiungiamo lo standard, che ci siamo prefissi, che la società esige da noi, che l'ambiente nel quale siamo vissuti, eccetera. Oggi il Signore ci illumina su cosa sia il giudizio. Il giudizio parla di luce e di tenebre. E proprio perché il giudizio parla di luce e di tenebre, ci aiuta ad imparare piano piano a non temere il giudizio. Perché tu puoi non temere il giudizio degli altri? Perché tu puoi cominciare a giudicarti con pazienza, con misericordia, con tenerezza? Perché accetti il giudizio di Dio? Perché sperimenti che il giudizio di Dio è misericordia? Dio ha giudicato il male, Dio ha giudicato Fatala, Dio ha giudicato l'autore della morte. Dio, dando il suo figlio, ha mostrato di che qualità sia il suo giudizio. Dio ha tanto amato il mondo, da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Il cuore, la sintesi di tutta la scrittura. Dio ha tanto amato il mondo, quanto ha amato il mondo. Il mondo significa tu e Dio. Il mondo significa colui che è separato da Dio. Il mondo significa il nemico di Dio. Il mondo significa tu con la tua mentalità mondana, io con la mia mentalità, col mio pensiero mondano, umano, carnale, col mio pensiero superbo, col mio pensiero di giudizio costante nei confronti degli altri. Ebbene, Dio ha amato te, tanto ha amato te da dare suo figlio. Faccio un esempio. Quale madre, quale padre, offrirebbe, consegnerebbe il suo figlio unico, figlio unico desiderato, amato, per il quale ha fatto tutto, un figlio avuto forse dopo tante difficoltà, dopo tanti tentativi, forse qualche aborto spontaneo. Immaginiamo una situazione del genere. Un figlio unico, bellissimo, stupendo, arriva uno che vuole rubare, che vuole prendersi tutto, un casa, una rapina, mano armata, non solo vuole proprio uccidere quel tuo figlio, sta per uccidere il tuo figlio. Ebbene, quale madre, quale padre, lo consegna, lo consegnerebbe a questi delinquenti, perché loro si salvino, per salvarli. È andata così la cosa, eh? Forse non ci abbiamo pensato. È andata proprio così. Il figlio amato, il figlio, la persona più amata, la luce dei propri occhi, il senso della propria vita, non lo so. Chi è che lo offrirebbe a degli assassini, a chi vorrebbe rubare tutto, e chi vorrebbe ucciderlo? Per salvarlo, tieni, uccidelo. Perché tu ti salvi. No, questo ci fa venire le vertigini. Dio non ha mandato nel mondo il figlio per giudicare il mondo. Ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui? Che è che, quando giudica, desidera e acqua la salvezza? Di chi sta giudicando? Nessuno. Il nostro giudizio è per affermare noi stessi. Vedete la differenza enorme tra la luce e tra le tenebre. Le tenebre non possono venire dalla luce. Chi fa il male odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Le opere che partono dal giudizio, dal giudizio profondo che noi abbiamo verso Dio, il giudizio che abbiamo verso Dio che ci ha inculcato il demonio con le sue menzogne, Dio non ci ama, Dio non può permettere questo nella mia vita, eccetera. Fatti tu Dio. Questo è il giudizio primordiale, il giudizio originale, la superbia che si manifesta attraverso un giudizio. E se giudichi Dio, è perché lo vuoi distruggere. Perché vuoi vindicarti, perché vuoi metterti al posto suo, perché vuoi aggiustare quello che Lui ha fatto. Per questo le tue opere sono malvagie. E queste opere saranno sempre nell'oscurità, la mormorazione, i pensieri malvagi, i giudizi interiori che noi abbiamo profondi verso gli altri. Non parlo dei giudizi superficiali. Ah, che stupidaggine hai fatto? Ah, sei sempre lo stesso, eccetera. Non sto parlando di quello. Tante volte rimaniamo impigliati in questi giudizuoli, tra virgolette, nel senso che non sono il giudizio vero che defida il mare per l'altro. E parlo di questi giudizi. E guardate che non sono neanche questi tanto lontani dal nostro cuore, eh. Anche non sono lontani nemmeno dal cuore di una mamma. Perché? Perché tu in fondo stai giudicando tuo figlio non corrispondente ai tuoi standard, ai tuoi schemi, perché tu sei Dio. Questa è l'opera malvagia, che non viene alla luce. Che vuol dire che questo giudizio può venire alla luce? Non ce la fa. Può venire alla luce soltanto se sperimenti, scopri, uno che ti ama così come sei. Chiama a te, madre, che giudichi tuo figlio. Chiama a te, figlio, che giudichi i tuoi genitori. Chiama a te e me, che giudichiamo Dio. al punto di dare suo figlio perché tu possa uscire alla luce. È la risurrezione. È la Pasqua. Venire alla luce. Cioè, quello che c'è nelle tenebre viene alla luce. Questa è la più grande rivoluzione. Questa è la unica salvezza per le persone. Non c'è un posto dove tu puoi essere quello che sei. Per questo, vediamo nell'ipocrisia, continuiamo a mascherarci perché non possiamo venire alla luce. Se venisse la luce al nostro cuore, perderemo tutte le persone e ci perderemo a vicenda. alle volte esce fuori quando abbiamo ira. Con l'ira, nelle grosse litigate, escono fuori le cose più velenose, sedimentate. E lì è difficile poi rimettere a posto i cocci, no? Per questo intentiamo non far venire alla luce nulla. Nella Chiesa è possibile essere quello che sei. Piano piano. Giorno dopo giorno. Perché? Perché Dio ha consigliato il suo figlio a te. per te è entrato in quella morte, è entrato in quell'oscurità, ha accettato il tuo giudizio cattivo. Dio ha accettato che tu lo giudicassi male. Questo significa dare il suo figlio. E per distruggere questo giudizio nel fondo del tuo cuore sei stata la prova più grande dell'amore. Ha lasciato che tu ti uccidessi il suo figlio. Ma quella morte ha fatto il suo figlio prossimo a te. ha fatto precipitare il suo figlio dentro al tuo giudizio, dentro alla tua tenebra. E risuscitandolo ti ha dato la possibilità di uscire dalla luce. E lasciare nelle tenebre, lasciare nella morte, lasciare per sempre nelle acque del battesimo, nelle acque del Mar Rosso, l'esercito del Faraone, l'esercito di giudizi, di mormorazioni cattive, l'esercito delle opere del superbo, le opere dell'uomo della carne, l'uomo che si crede Dio. Allora, fratelli, coraggio, è vero, chi non crede in lui, chi non crede a questa buona notizia, è già condannato, è condannato al giudizio, è condannato ancora a giudicare, 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 in questa schiavitò al giudizio, in questo Egitto di giudizi, e con la misura in cui giudicate sarete giudicati, eh? Fratello, sorella, accetta oggi il giudizio di misericordia, accetta che Cristo ha dato la vita per te, accetta che Lui è venuto alla tua vita, viene oggi attraverso questa parola, viene attraverso la Chiesa a te, perché tu non ti perda, perché tu possa appoggiarti a questa zappera, perché tu possa aggrapparti alla sua croce, perché tu possa aggrapparti al suo amore, per uscire fuori da queste tenebre che ci distruggono, che ci fanno pensare male negli altri, che crede in Lui non è condannato. Credi al nome dell'unigenito, figlio di Dio, credi, cioè appoggiati, metti la sua vita nella sua misericordia, lasciati bagnare, lasciati immergere nel suo amore, allora opererai nella verità, chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Se tu sei risolto con Cristo, se tu hai accettato l'istituzione di misericordia di Dio, l'assoluzione, attraverso il suo figlio, perché Lui si è fatto condannare al posto tuo, se accetti questo, allora temperai alla luce naturalmente, perché le tue opere saranno fatte in Dio, cioè fatte nell'amore, fatte in questo giudizio, giudicherai con misericordia, giudicherai con amore, mitezza, tenerezza, pazienza, 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 giustificherai gli altri, come sei stato giudicato, così giudicherai, non giudicherai te stesso, non giudicherai Dio, chi sperimenta l'amore di Dio, chi giudica bene Dio, cioè, mamma mia quanto mi hai amato, mamma mia quanto mi ami, mi perdoni davvero, hai dato il tuo figlio veramente per me, se sperimenti questo, se diri di questo amore, istante dopo istante, è tolto dal tuo cuore il giudizio nei suoi confronti, e se è tolto, è stirpato, il giudizio di condanna nei confronti di Dio, e al posto del giudizio c'è la fede, c'è l'appoggiarsi in Lui, c'è l'accoglienza costante del suo amore, automaticamente giudicherai con quegli stessi occhi di Dio, perché Dio fa bene tutte le cose, non giudicherai Dio perché sei malato, non giudicherai Dio perché sei solo, non giudicherai Dio perché la parrocchia va male, perché le persone non ti accolgono, perché tutto sta succedendo un macello nella missione dove sei, non giudicherai, anche se c'è un terremoto, anche se c'è il macello più grande nella tua vita, la vita di presbitero, la vita di suora, la vita sposata, la vita di celibri, la vita di anziano, la vita di missionario, in qualunque situazione tu ti trovi, sei sempre davanti la certezza che Dio non sbaglia, che Dio ha un progetto d'amore, che credi che Dio che ti vuole bene e lo credi perché lo sperimenti ogni giorno, nella Chiesa, nella tua vita, tutte le cose che vedrai diversamente.